ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario bovifern plus informazioni commerciali titolare zack srl concessionario zack srl confezioni bovifern plus 24 buste da 115 g formulazione destrosio siero di latte in polvere parzialmente della tosato cloruro di sodio cloruro di potassio fiocchi di banana farina di riso farina di fiori di camomilla pectine farina di semi di anice farina di semi di finocchio cloruro di calcio cloruro di magnesio tenori analitici proteine gregge 4,0 per cento grassi gregge 0,5 per cento fibra grezza 1,4 per cento sodio 4,4 per cento potassio 3,0 per cento cloruro i 3,8 per cento integrazione per chilogrammi vitamina 175 mila ui vitamina e 440 m g enterococcus faecum dsm 10.660 trentin 10.415 e 1.707 oralina a marchio registrato 1,75 x 10 5 10 ufc propionato di sodio gomma guarer bentonite 30.000 mg indicazioni reidrata tampona nutre stabilizza la microflora intestinale del vitello in caso di diarrea neonatale posologia miscelare 1 busta in 2 litri di acqua tiepida 50 gradi e aggiungere in base alla razione abitualmente consumata da 0,5 a 4 litri di latte o sostitutivo somministrare due volte al giorno per 2 3 giorni o piasse necessario fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato ciao ciao